Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Nella puntata di Pomeriggio 5 si è continuato a discutere del complesso caso di Pierina Paganelli. Loris e Manuela Bianchi continuano a sostenere l'innocenza di Luis, convinti che non abbia commesso nulla di male. «Siamo stati noi i primi a dire che lui è innocente», dichiarano. Luis ha sempre affermato di non essersi mosso dal divano, mentre un testimone sostiene di averlo visto camminare nervosamente sotto casa. Le immagini mostrano una figura con una maglietta più scura rispetto al braccio, contraddicendo la dichiarazione di Luis. Se avessi cambiato abiti per coprire tracce di sangue, i tempi non coincidono, presentando incongruenze temporali. Luis avrebbe dovuto commettere il delitto, cambiarsi, uscire per gettare i vestiti sporchi e tornare, il tutto in soli tre minuti. Il corpo di Pierina è stato spostato e posizionato tra due porte tagliafuoco, come se si volesse nasconderlo. L'acqua usata per pulire la scena ha impregnato il pavimento. Luis potrebbe essere stato messo in una posizione visibile alle telecamere mentre qualcun altro agiva nell'ombra. La giustizia potrebbe non essere stata completamente fatta, con l'ombra di Manuel e Luis sempre presenti. E voi cosa ne pensate? Credete che Luis da Silva sia stato incastrato oppure c'è dell'altro? Lasciate la vostra opinione nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.